Questa maratona era fine, il risultato è stato negativo. È stata una partita giocata un po' sulla tensione, lui ha giocato meglio ai punti importanti e io non sono riuscito a fare il mio gioco, sto qua. Peccato, adesso uno a uno c'è il doppio. Gli odi tu? No, Fratelli Galloppa. Ah forse, grazie.